Ciao a tutti, come state? Stamattina mi trovo qui su una delle mie spiagge preferite di Perth, che è la spiaggia di Cottesloe, che è dove abbiamo vissuto per cinque anni, diciamo la zona di Perth, sull'oceano, dove abbiamo vissuto cinque anni, e questa era proprio la spiaggia che avevamo davanti alla nostra casa. E come potete vedere non c'è nessuno, c'è pochissima gente, pochissime persone, e a me piace venire sull'oceano a camminare, ad ascoltarmi, ad ascoltare le onde, il suono delle onde del mare, dell'oceano, ascoltare il suo respiro, perché è un respiro quello che ha l'oceano, e spendo parecchio tempo, se posso, ogni giorno vengo a fare un saluto, sia all'oceano che al sole, soprattutto durante le ore del tramonto, è meraviglioso fermarsi ad osservare l'orizzonte in direzione del sole. È una meraviglia, perché avere questo oceano in città, proprio a un minuto da casa, è qualcosa di straordinariamente incredibile, in quanto non sembra di essere in città, per vedere, potete vedere che mare, che oceano, è una cosa veramente straordinaria. E quindi ecco, l'oceano e l'Australia ci regalano questi posti straordinari a portata di tutti, perché questo è un posto a portata di tutti, è nel cuore della città, e bisogna solo andare ad ascoltarli, a sentirli, a viverli. Adesso vi saluto e vado a lavorare. Ciao ciao!